Sì. Congratulazioni! Puoi entrare a far parte del Club delle Stelle! Ehi, che bello! Ti sto meravigliosamente! Il Club delle Stelle di Sefi diventerà il club più esclusivo di tutto il mondo! Già, e tutti ne vorranno far parte! Oh, per tutti i fischietti, mi ci vorrà un'eternità per finire! Ancora qualche altro? Ciao, Sefi! Ho sentito del tuo fantastico Club! Ne posso far parte anch'io! Dovresti fare qualcosa di speciale! Oh, ehm... Oh, Laura! Potresti passarmi quella palla? Oh, ecco! E poi... Ta-da! Mi dispiace, ma non puoi far parte del mio Club, Wilson! Oh, accipicchiola! Non buttarti giù! Io credo che tu sia più un raggio di sole! Ah, davvero? Ho una sorpresa per te che ti farà sentire meglio! Vieni con me! Mio! Lo prendo io! L'ho preso! Stai prendendo tutto tu! Non mi lasci niente! E invece sì! E invece no! Ciao, Leo e Bea! Volete entrare nel mio Club? Che cos'è un Club? Un Club è un gruppo di treni speciali a cui piacciono le stesse cose e si divertono insieme! Super! Super! Che cosa dobbiamo fare? Mi fai solletico! Io raccolgo i rifiuti e mi piace tanto farlo! Io raccolgo i rifiuti perché sono tenuta a farli! Ok, ehm... Io... Mi piacciono tanto i cetriolini sono verdi e... sono verdi e... piccolini... Ehm... Come sono andato? Bea? Congratulazioni! Da oggi tu fai parte del Club! Yeah! Una ruota! Ma quello non è! Sì, sì, è lui! Emery, hai tre minuti di ritardo! Non preoccuparti, vi recupererò! Sono venti minuti in anticipo e ho saltato quattro fermate! Non c'è di che, amico mio! Oh, ma guarda! C'è un mucchio di spazzatura! Nessun problema! Ora ci penso io! Oh! Tutto tuo! Ma era il mio incarico! E adesso cosa faccio? Tranquillo, finirò io di liberare i binari! Ho tutto sotto controllo, ti ringrazio! Fatti da parte, posso farlo io per te! Lo faccio io! Lascia stare, ci penso io! Ho detto che voglio farlo io! Che cosa ho fatto? Mi dispiace tanto! Io ho messo in pericolo la tua vita! Ti senti bene? Ho capito qual è il tuo gioco! Davvero? Sei uno a cui piace che i riflettori siano puntati su di sé e forse da dove vieni tu è una cosa normale ma qui da noi non funziona così! Già, sto cercando di impararlo! E se vuoi essere uno di noi devi smetterla di fare il super treno! Noi siamo una squadra e lavoriamo sempre insieme! Vado a cercare aiuto! C'è mancato poco! La mia copertura stava per saltare! Questa cosa non sta funzionando! Non ho idea di come sia essere un... Un treno comune! Un dramma vincente che parla della vita dall'altra parte della rotaia! Chissà come se la sta cavando, Superlock! È così difficile quando si hanno dei superpoteri! Ho trovato! Mi stavi riprendendo! Dovrebbe funzionare! Pronti a girare? Azione! Più veloce! Oh! Accidente! Devo proprio andare! Io raccolgo tutti i rifiuti e mi piace tanto farlo! Posso riprenderti mentre lavori? Sto realizzando un film su Chuggington per il sindaco! Ma certo che puoi, amico mio! Urrà per Chuggington! Ah, finito! Buona fortuna, Sefi! Io raccolgo tutti i rifiuti e mi piace tanto farlo! Io li metterò qui dentro perché è il mio dovere farlo! Oh, accipicchiola! Non puoi romperti adesso! Dai, non ho ancora finito di pulire! Oh! Stai facendo delle riprese? Sì, pronti a girare? Fantastico! Guarda questo! Oggi non è proprio la mia giornata! Allora, come vanno le riprese del film? Sono un vero disastro! Guarda! Ciao! Ciao! Più veloce! Oh, accipicchiola! Il sindaco non ne sarà felice! Mi dispiace! Non ho speranze! Dovrei lasciar fare il film! Ho il piacere e l'onore di presentarvi Uffi! Una piccola, adorabile trenina a vapore! Ciao, Uffi! È un piacere ciao-ciao per noi averti qui! Ciao-ciao! Benvenuta nella tua nuova casa, piccola Uffi! Io sono V e il mio compito è controllare che a Chuggington tutto avvenga in orario! Che sta succedendo? Tranquilla, Uffi! Ti aiuto a scendere! Ora vieni più forte! Ma guardate la piccola Uffi! Non la trovate anche voi deliziosa? Sì, davvero deliziosa! Allora, sei pronta, piccola Buffy? È giunta l'ora di far funzionare la tua caldaia! Sto arrivando! Per prima cosa è necessario riempire di acqua la tua caldaia Che l'iniziazione abbia inizio! Ok! Sei pronta? Ecco che arriva! Va tutto bene? Penso di sì! Sei davvero molto brava! Ora dobbiamo accendere la tua caldaia! Oh! Ho sentito un rumore! Bene! Significa che l'acqua presto inizierà a surriscaldarsi! Quando l'acqua starà bollendo sentirai un flusso di bollicine! Fanno un po' il solletico ma ti ci abituerai! Perché stanno dando così tante attenzioni a Uffi? Quella trenina non sa ancora fare nulla! Poi dovrò oliare tutte le tue giunzioni perché man mano che ti riscalderai inizieranno a espandersi! Ah, e ti aiuto io! Qualche goccia qui e un po' anche da questa parte! Mi fa il solletico! Tra poco dovresti iniziare a sentire caldo! Le bollicine! Guarda! La pressione sta aumentando! Che cosa dice l'indicatore? Ah! Hai capito cosa ha detto Allwin? Bea, non era la voce di Allwin! Ero io! E ho detto A! Oh no, Leo! Non stiamo seguendo Allwin! Ma un eco! Sicuramente lei non è qui sotto! Più in alto! Più in alto! Più in alto! Più in alto! Ehi, fate piano! Ops, troppo alto! Più basso! Più basso! Molto più basso! Oh, scusami Aldo! Ops! Ci siamo persi, non è vero? Leo, facciamoci sentire! Usiamo il fischietto d'emergenza! Io faccio quello lungo, tu il corto! Pronto! Sì! Ce l'abbiamo fatta, Leo! Leo! Bea! Dove siete finiti? Oh! Sta arrivando! Tranquilli trenini! Farò presto! Presto! Questa era la voce di Allwin! Ha detto di andare a destra! Arriviamo, Allwin! Allwin! Bene, ipotizziamo che io abbia un guasto, ma non sia danneggiato. Che mi è successo? Hai finito il carburante? O ti sei sorriscaldato? Ottime risposte! Diciamo che ho bisogno di acqua. Wilson, il riformitore è in tuo soccorso! Wilson! Oh, accipicchiola! Scusa tanto! Sono senza fiato! Leo! Leo! Bea! Rilassati, Buffy! Ti stai surriscaldando troppo! Non ci riesco! Certo che ci riesci! Ma devi avere un po' di pazienza! Non puoi cavalcare se non sai camminare! Questo è la ferra trenini! Chissà dirmi a cosa potrebbe servire! Se stessi inseguendo Coco, potrei gettarla nella sabbia e vincere io! Ti piacerebbe! Ti ringrazio, Wilson! Oppure... Oh, io lo so! Se si perde il controllo della vettura, ti ferma senza danneggiarti! Ehi, molto bene, Bruno! La tua risposta è esatta! Adesso voglio che tutti voi proviate a usarlo! Tocca a me! Tocca a me! Aiuto, aiuto! Ho perso il controllo! Scambia i binari! Attento! Ma, Wilson! Che ti ha preso? Scusami! Ce l'ho fatta! Ancora, ancora! Pete, per favore, ho bisogno che tu vada subito alla cava! Posso andare anch'io? Mi dispiace, Uffi, ma tu non puoi! Puoi farcela, Wilson! Puoi farcela, puoi farcela, puoi farcela! Coraggio, Wilson! Hai visto? Che gli prende a Wilson? Non mi convinco di potercelo fare! È difficile deragliare se stessi, ma ci riuscirai! Scusate il disturbo, ho bisogno che qualcuno di voi vadi a Uffi! Me ne occupo io! Wilson! Non devi arrenderti solo perché è difficile! Promettimi che dopo tornerai qui e riproverai ancora, ok? Va bene! Cavalchiamo i binari! Che cosa vuoi fare? Si chiama Aldo! Tranquilli, è appena uscito dall'accademia! Vi insegnerà cose che io nemmeno conosco! Ma noi non vogliamo qualcun altro! Devi proprio andare via! Vedrete, starete bene! Ci mancherai, Damba! Oh, beh, anche voi mi mancherete tanto! Ricordate tutto quello che vi ho insegnato! Rendetemi orgoglioso di voi! Te lo prometto, Dambar! Bene! Non muovetevi da qui! Vado a vedere se in giro c'è qualche traccia del vostro nuovo insegnante! Dunque, questa è Chaggington! Impressionante! Annuncio speciale! Il nuovo insegnante è qui! Salve! Salve! Un attimo di attenzione, prego! È con grande piacere che ho l'onore di presentarvi il nuovo membro della nostra squadra! Ecco a voi, Aldo! Aldo, benvenuto a Chaggington! Grazie! Sono contento di essere qui! Lieto di conoscerti, Aldo! Io sono Dambar! Oh, ciao, Dambar! Finalmente ho il piacere di conoscerti! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i tuoi piccoli apprendisti! Hanno una gran voglia di conoscerti! Molto bene! Il nuovo insegnante sembra molto competente! Salve a tutti! Bruno, Wilson, Coco! Vi presento Aldo! Ciao, Aldo! Ciao! Sì, ciao! Sono davvero entusiasta! L'idea di lavorare con voi sarete i miei apprendisti della gru! Bene, vi lascio con lui! Tornerò più tardi per gli ultimi saluti! Insieme, Trenini, ci divertiremo a tonnellate! Chi vuole mostrarmi quello che avete imparato fino ad ora? Dovresti farlo tu, Bruno, sei il migliore! Io non saprei! Andiamo, non essere timido! Bruno, infila questi contenitori per me! Ok! Afferrare, fatto! Spostare, fatto! Abbassare, fatto! Sono state tutte raccolte! Una zucca! Beh, hai detto che era da quella parte! No, ho detto che era da questa parte! No! Stop! Non sono riuscita a frenare! L'ho già fatti perdere! Oh, accipicchiola! Andiamo da questa parte! Ma è una strada... Senza uscita! Winston, mi servono le mie! Non posso fare il gelato con questa bottiglia! È l'unica che sono riuscito a trovare! Strada senza uscita! Che cosa c'è nel vostro vagone? Voi siete... Dei pochissimo aiuto! Dei geni! Noi siamo geni! Hai detto geni? Castagne, lamponi, more! Userò questi ingredienti fantastici per creare un nuovissimo e gustosissimo gelato!